Il carattere Sanremo è appena partito per la stagione, adesso il 16 di dicembre andremo a fare uno stage nazionale con un esame di passaggio d'amper per uno dei nostri atleti adulti, poi il 20 e 21 facciamo gli esami di palestra, quelli di fine anno e ci prepariamo per il Santo Natale. Dopodiché a gennaio abbiamo l'incontro con il maestro Fugazza che viene da Milano a farci lezioni e a portarci l'aggiornamento e l'attività adesso stiamo preparando per le gare che ci saranno poi in primavera perché un po' come tutti gli sport la primavera porta poi alle misurazioni, ecco l'inverno stiamo covando la forza e l'agilità per arrivare in primavera a svegliarci. Il karate è uno sport di difesa no? Il karate è uno sport sicuramente di difesa ma dove la difesa comincia già nel vedere da lontano ciò che succede, è uno sport diciamo che cerca di vedere lontano ciò che succederà dopo. La difesa arriva quando non ho visto abbastanza quello che succederà e quindi sono costretto come se si va in automobil sono costretto a frenare per non entrare nell'incidente ma se ho visto prima ciò che succedeva non freno e rallento già prima. Per cui diciamo non è uno sport di difesa ma dove la difesa anche se vedo la situazione critica e comunque che ne trago vantaggio agendo prima diciamo che il karate si allena a fermare le intenzioni ancora prima che succeda come l'autista vedendo ciò che succede prima si ferma prima che succeda l'incidente. Quindi riparare l'incidente è già troppo tardi. Uno sport che possono far tutti dai più piccoli ai più grandi, vedo che ci sono di tutta l'età qua. Il karate è uno sport di coordinazione, ultimamente perché ovviamente andando avanti scopro sempre delle cose nuove mi rendo conto che il karate insegna ad imparare, insegna ad usare il proprio corpo, imparare la coordinazione. Una delle grandi soddisfazioni che ho sempre avuto insegnando karate è che il karate prepara in effetti a tante altre cose, prepara il nuoto, prepara lo sciare, prepara perché comunque le gambe le usiamo bene. Ma perché mi rendo conto proprio che impara ad insegnare, impara a stare attenti anche perché se non stai attento e non capisci il ceffone che è partito arriva. L'unica palestra è questa qua di Vila Ormone, avete delle altre? No, noi insegniamo giù alla Foci, abbiamo appena aperto una palestra con Davide Giusta, il Picchio, che fa una bella attività, una bella palestra anche. E poi da un anno stiamo facendo lezioni lì alle scuole Almerini in Via Squasciata, in Piazza Colombo, con un bel successo e anche una bella soddisfazione perché è la scuola che ci ha fatto questo, facciamo in orario scolastico e abbiamo anche la scelta di tanti bambini perché comunque c'è da dire che il bambino dai 5 agli 8-9 anni ha bisogno di conoscere il corpo. Stavo per dire che ha bisogno di azzuffarsi perché nell'azzuffarsi impara a conoscere, cioè nello spingere l'amico, nel lottare con un altro corpo conosce il proprio corpo e questa è una cosa che non dovremmo togliere ai bambini perché è una cosa, è un segnale molto importante perché sennò poi questa non conoscenza arriva a degli squilibri nell'età poi dell'adolescenza, arriva su questo. Per cui il bambino, io consiglio sempre ai genitori che hanno bambini dai 4 agli 8 anni di fare la lotta insieme a loro perché conoscono il peso, conoscono le tecniche per svincolarsi, conoscono, cioè imparano ad usare il proprio corpo perché noi purtroppo da quando abbiamo imparato a camminare retti, abbiamo sempre camminato retti, non usiamo più il corpo da sdraiati negli altri modi. Il karate per esempio insegna che destra e sinistra è uguale, avanti e indietro è uguale, ecco, su questo. E questo è con grande soddisfazione perché i bambini sentono proprio l'entusiasmo di imparare questo. Ecco, io l'ho imparato verso i 20 anni, gli bambini devo dire di 5 anni che fino ad allora hanno solo camminato andando avanti scoprire che si può camminare o correre addirittura anche indietro per loro è una cosa fantastica o semplicemente fare i saltelli, no? Che magari a casa la mamma ovviamente non glieli può far fare perché sotto però non trovano i vicini.